E bello a tutti ragazzi e ragazze ben ritrovati dalla vostra Croatomist Oggi video speciale perché dopo quasi tre mesi ritorniamo con il format che avete amato tantissimo Sto parlando ragazzi della reaction alle vostre postazioni da gaming Ebbene siii Quindi si ragazzi oggi andiamo a vedere un po' delle vostre postazioni da gaming Vediamo un pochettino cosa mi avete inviato Prima di iniziare con il video però ragazzi invito da subito a lasciare un bel pollice in su Iscrivetevi al canale e mi raccomando ragazzi seguitemi su Instagram Perché ve lo dico subito Perché ragazzi se anche voi volete partecipare a un prossimo video qua sul mio canale Non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram E rimanere sintonizzati con le mie stories di Instagram Perché da un giorno all'altro vi dico Wow fratellino oggi facciamo un video Quindi vi raccomando scrivetemi questo in DM Perché registrerò un video particolare dove voi parteciperete Quindi rimanete sintonizzati per partecipare Quindi ora ragazzi però non perdiamoci chiacchiere E andiamo a vedere le vostre postazioni da gaming Bene ragazzi vorrei iniziare con la prima postazione di oggi Che ce la manda il signor Rick Che peraltro lui mi aveva inviato le foto il 14 giugno Quindi in realtà lui ha avuto la sfortuna che non ha riuscito diciamo a partecipare nel primo video Ma nel secondo ovvero questo sì Quindi buonasera signore ricchettino Andiamo a vedere la sua postazione Allora intravedo già un qualcosa di molto molto bello Che sarebbe ovviamente ragazzi il dual setup del monitor Cioè i due monitor così a me fanno veramente impazzire Io ho sempre voluto avere il monitor quello diciamo secondario Sopra il monitor principale ma non l'ho mai fatto E se mi chiedete il perché in realtà non lo so manco io Vi dico la veritas Però veramente molto molto bello il setup Vedo che è proprio una postazione di tutto rispetto Cioè non è solo da gaming ma sembra proprio da streaming Perché comunque ha il mixer Ha un microfono tanta roba Un microfono XLR La sedia Secret Lab che è fenomenale Cioè di cosa stiamo parlando ce l'ho anch'io È bellissima E il pc pure tanta roba Veramente quelli della postazione ragazzi Dovrebbero esserci però anche altre foto Vediamo abbiamo il case proprio subito così Diciamo più frontale Ok quindi case con Dovrebbe essere case rock con dei bei Quattro ventolazzi tutti full RGB Quindi il case anche molto 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 pulito Bianco ci sta E poi abbiamo anche una terza foto Che è quella più diciamo frontale Beh raga per me è una bellissima postazione Nel senso Secondo me è veramente tanta roba Io un otto e mezzo glielo do tutto Nel senso che l'unica cosa che secondo me manca Ma quello ovviamente è un gusto ovviamente soggettivo Cioè a me piace ma magari a qualcun altro può non piacere E diciamo ci vorrebbe l'aggiunta di qualche led Tipo i led magari attorno alla scrivania Qualcosa magari anche sul muro di colorato Che illumina ancora di più Però è veramente molto bella Cioè per me un otto e mezzo Questa postazione si ribecca tutti quanti Perché è veramente bellissima Quindi sì voto finale otto e mezzo Complimenti Rick molto bella Passiamo adesso alla seconda postazione Che ce l'ha invia il signor Greg Che ci ha inviato solo una foto Ed è diciamo leggermente sfocata E non fatta benissimo Però comunque non importa Noi andiamo ovviamente a volutare il setup Come meglio riusciamo Quindi vediamo sicuramente che ha appunto Un monitor principale Ha anche una tastiera Il mousepad bello grande Dovrebbe essere non un triple XL Ma un doppio XL E poi vedo anche un portatilino sulla sinistra Cioè vedo comunque da questa foto Che non vedo troppissimo Ed è anche un po' sfogata Comunque ha il setup diciamo minimal Tranquillo Nel senso ha tutto quello che serve Quindi per me tranquillamente un set Perché comunque non posso volutare il resto Perché dovente nella foto non lo vedo Però la postazione comunque è molto molto brita Un po' da sistemare i cavi Però va bene Nel senso non è quello Quello lo so che è fastidioso un po' per tutti Anche io odio il sistema dei cavi Lo sistemati dopo 30 anni E vi assicuro che è una noia mortale Però per quello che ho visto Comunque è carina Ha tutto un essenziale Ora passiamo con la postazione di Davide Che ci ha inviato due foto Oh Questo sembra molto 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 bella Nel senso ha una scrivania piccolina e il giusto Vedo che appunto ha un bel monitor bello grande Che non so se è un monitor o più una tv Non lo riesco a capire Perché sembra molto molto grande comunque E vedo anche l'Xbox Quindi probabilmente sarà più una tv Credo non lo so Non voglio dire una cavolata Ma mi piace davvero tanto La composizione che ha diciamo Sopra la scrivania È fatta veramente bella Con tutte le lattine di Monster Veramente bella Mi piacciono anche molto le colorazioni Molto molto calde Molto gialle Aranciate Veramente molto bella questa postazione Cioè qui per me raga Tranquillamente Un bel set e mezzo Io lo diamo Perché secondo me è fatta veramente bene Nel senso ha tutto l'essenziale Che serve per una postazione da gaming Come vedete ha tutto quanto Comunque ha tastiera Mouse Mousepad pure RGB Da quel che vedo Una bella tv E gioca Teoricamente da O play o Xbox Non lo so Credo play comunque Non voglio dire una Basta Comunque molto bella Sette e mezzo Assolutamente mi piace veramente tanto Proprio per le colorazioni E diciamo La disposizione che ha fatto Sopra la scrivania Che secondo me è molto 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 bella Tanta roba Qui ragazzi Sto per farvi vedere La postazione più bella di tutte Supera anche la mia E quella di tante altre persone Ed è proprio di lui Del signor Big Gamer Che ci invia La postazione Direttamente Da scuola Ma cosa fa Il bello che mi ha pure scritto Eccola E poi mi scrive sotto Dopo ti mando Quella vera Ma mi scusi Mi scusi Cioè per me questo Ha vinto tutto Per me raga Ha vinto tutto Cioè direttamente La postazione Direttamente da scuola Raga Tanta roba Voto Infinito Cioè Non è neanche da 1 a 10 Qua è infinito Proprio Non posso darti un voto Perché è infinito Troppo È too much Too much Tanta roba Vincitore del contest di oggi Proprio a mani basse Qui ragazzi abbiamo la postazione Di Mirko Che solo dall'anteprima Devo dire che Fa paura Ma ora andiamola Un pochettino a zoomarla Beh raga Ma che ve lo dico a fare Cioè una postazione Ma qua Questa Cioè scusami ma Questa non è una postazione Per una versione Questa è una postazione Per tre persone Cioè incredibile È tipo Sembra tipo da Tipo sala LAN Sala gaming Cioè bellissimo Come se tappate Veramente tanta roba Veramente Veramente tanta roba A pare fatto che il case Quello là sopra Lì in alto È tipo Wow Cioè bellissimo Colori troppo belli Poi qua vedo Comunque vedo il Il frigorifero Per le lattine Lo voglio anch'io Per favore Mirko Lo voglio anch'io Cioè allora Ok tutto Ok niente Lo voglio anch'io adesso Perché ora Ora sto rosicando Poi vabbè Qui vediamo un altro case In fondo Sì questa non so Se è una postazione Da gaming Cioè sicuramente Non è per una persona Ma credo che sia più Per una Sala LAN Sala gaming Che probabilmente Hanno Che stiamo parlando appunto Degli straw Quindi Molto 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 Bella Cioè qua ragazzi Per me un 9 Ci sta tutto Cioè è fatta veramente bene Comunque è proprio bella Cioè proprio le colorazioni Come sono diciamo Messe diciamo Posizionate le Tutte le varie periferiche I computer Veramente bella Cioè per me qua un 9 Ci sta tutto Dai raga è troppo bella Nel senso Nulla da dire Bellissima Bellissima Mirko Davvero tanta tanta roba Andiamo con la postazione di Emma Che ci invia Appunto questa foto Uh Quindi molto Oh scusatemi Molto Una foto molto molto serale Molto notturna Beh sembra Sembra fatta veramente bene Ragazzi Cioè nel senso Vederla Vederla così È bellissima Mi dà proprio Mi dà proprio quella sensazione Di comfort Relax Proprio nel chilling Con quelle lucettine gialle Tipo di Natale No diciamo così Veramente Veramente bella Cioè anche qua Io ti dico tranquillamente Per me Vederla così Anche se non c'è Troppa roba Nel senso di gadget Eccetera eccetera Però così a vedere È molto carina Quindi per me Un 8 Te lo do tutto Perché è veramente Veramente bella Vedo che comunque Hai anche i monitor Probabilmente appesi Sul muro Con l'affarino Quello classico E poi Tutto quanto fatto per bene Pure l'aste del microfono E mi piace veramente tanto Ragazzi Ma piccate proprio Per una questione Di colorazioni Veramente proprio bella Molto molto bella Per me 8 Tutta la vita È davvero Molto molto bella Complimenti Invece davvero tanto Ora andiamo con la posizione Di Blade Che ci invia una foto Frontale Con tutta la sua postazione Quindi lui Appunto gioca Da mouse e tastiera Cioè nel senso Ha un computer portatile Con attaccato Ovviamente mouse e tastiera Per comodità maggiore Ma vorrei anche ben vedere Nel senso Hai fatto benissimo Quindi in realtà Tutte le Essenziale Nel senso Ha tutto quello Che gli serve Per comunque La passione da gaming Quindi per me Anche qua Un 7 e mezzo Ci sta Perché è molto molto bello E anzi Ti dirò Dirò un 8 Dirò un 8 Perché ho visto Uno sfondo di taci Che a me fa Letteralmente impazzire Quindi 8 solo per quello Però postazione in sé Dico 7 e mezzo Veramente Molto 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 bella È tutto quello che ci serve Quindi tanta roba Procediamo con la posizione Di Riccardo Poggi Che ci invia Questa foto Oh io raga Io vi giuro Quando mi inviate le foto Tipo di sera Con tutte le luci spente Dei led accessi del pc O delle periferiche Vi giuro Mi fanno impazzire Proprio le Le amo Io proprio Le amo Non ci posso fare niente Sono troppo belle Punto Allora Vedo il case sotto Che io non so Se è spostato così Volontariamente Perché non so Se è veramente messo così Non so come faccia A sedersi Perché io probabilmente Gli darei tante di quelle Pedate Di calci Che lo farei cadere H24 Quindi sicuramente Il case messo sopra È più bello Però sotto magari Può essere più comodo Sicuramente Cable management Da sistemare Quindi quello purtroppo È da fare Secondo me Perché cable management Fa tanto Però molto bella La passazione Perché comunque Vedo che ha il monitor Ha la webcam Probabilmente per le dad Non lo so Vedo che ha anche le casse Una bella tastiera Comunque illuminata Anche il mouse Quindi anche il case È puramente Molto molto bello Mi piacciono tantissimo Le ventole Quelle frontali Infatti abbiamo anche Una foto proprio Del pc in sé Che è proprio fatto così Beh il pc è veramente Molto molto bello Nel senso A parte il cable management Che ti giuro Non si può vedere Mi viene male al cuore Però ti capisco Perché anche io Con il cable management Sono una frana Quindi ci sta Qua ragazzi Direi sette e mezzo Anche per questa postazione Perché è molto molto bella E con un cable management Fatta a modo Tranquillamente Vai sopra l'otto Perché c'è proprio Tanta roba Però veramente molto molto bella Questa postazione Approvo Andiamo con l'ultima Postazione di oggi Che ce l'ha invia Ale E andiamo a vedere Cosa ci ha inviato Vedo già sicuramente Una bellissima postazione Ha la scrivania Quella che Che ha una mini L Che io raga Io con le scrivania L Impazzisco Vedo che lui ha messo Appunto il monitor principale Sul fronte Quindi su questa parte qua E ha un monitor secondario Sulla destra Non so Allora forse Diciamo in termini di comodità Secondo me Il monitor sulla destra Non è proprio Probamente comodo Almeno per me Magari per lui lo è Però per me non lo sarebbe Sicuramente Io avrei fatto tipo Il secondo monitor A posto del case E il case in sé O sulla L Oppure tipo sotto la scrivania Ma forse più sulla L Però molto molto bello Mi piacciono molto I monitor comunque messi in questo modo Bella la scrivania bianca Vedo anche comunque La strada gaming Un case comunque Con belle RGB Molto molto bella Questa scrivania Veramente tanta roba Minimale Proprio al punto giusto E a tutto quello che serve Quindi per me qui Tranquillamente Sette e mezzo Anche per questa Gli ridiamo tutti quanti ragazzi Anzi forse vi dirò di più Forse gli diamo un 8 Perché mi piace molto La disposizione proprio Della L E del Come ha fatto diciamo Le cose un po' più diverse Rispetto al solito Perché diciamo che Sarebbe più mainstream Avere il monitor Sulla destra Invece lui ha fatto proprio Tutto l'inverso Il case a destra E il monitor appunto Messo sulla parte della L Che non so quanto Posso essere comodo Però comunque A me piace Quindi 8 assolutamente Bene ragazzi Eccoci qua giunto Al termine di questo video Io spero che vi sia piaciuto Anche perché oggi Abbiamo visto veramente Tantissime vostrazioni da gaming Tutte quante Veramente veramente belle Quindi complimenti A tutti coloro Che hanno partecipato In questo video Ovviamente Il vincitore È solamente uno Ed è il king Indiscusso Colui che mi ha inviato La foto Direttamente da scuola Del banco di scuola C'è quella per me Guarda Complimenti Sei il vincitore Di questo video La più bella di tutte Però no A parte gli scherzi Mi ha fatto veramente ridere Quando ho visto quella foto Perché non me l'aspettavo Cioè mi aspettavo Una foto seria Invece L'ha fatto ovviamente Per il meme E noi apprezziamo Noi apprezziamo Quindi ragazzi Se anche voi volete partecipare Al mio prossimo video Non vi resta che appunto Seguirmi su Instagram E rimanere sintonizzati Con le mie stories di Instagram Se non l'avete ancora fatto Ragazzi mi raccomando Lasciate un bel pollicione A questo video Iscrivetevi al canale E già lo sapete Dalla vostra cronatomist È tutto Bella a tutti ragazzi